E' dall'Assemblea dei Piccoli Comuni che vogliamo lanciare un grido d'allarme, che è semplificazione. Semplificazione non è uno slogan per i sindaci, è un grido d'allarme perché chiediamo di liberare i sindaci, in particolare i sindaci dei piccoli comuni, da tanti adempimenti. Siamo costretti a fare 50 comunicazioni, le stesse articolazioni dello Stato, siamo costretti a compilare tutta una serie di documentazioni che onestamente, fatti i calcoli per i comuni più piccoli, hanno un impatto come benefici sulla comunità e sui cittadini esattamente pari a zero. Quindi faremo tre proposte all'interno della legge sulla semplificazione che riguardano proprio i piccoli comuni. L'abolizione del DUP, l'eliminazione del 24% sulla spesa del personale e vogliamo togliere l'obbligo anche per la gara per individuare la tesoreria comunale. Sono tre piccole cose che però aiutano i comuni a essere più liberi e a dedicarsi di più ai servizi nei confronti dei cittadini.